Assolutamente no, noi non dobbiamo spaventare il Governo dandogli l'impressione che ci siano dei sottopoteri che si organizzano contro il Governo. Questo è il principio della fine. Il Governo deve poter contare sulla nostra leale collaborazione, come previsto dalla Costituzione della Repubblica, ma deve anche sapere che un Presidente di Regione non è un militante di partito, rappresenta una comunità nel suo complesso, un progetto politico che spesso è fatto anche da forze politiche diverse dal Partito Democratico e che soprattutto risponde anche a chi non lo ha eletto. Ed è evidente che su alcune questioni, una di queste è certamente le trivelle, le scelte del Governo non sono condivise dalla più grande parte della popolazione delle regioni di cui lei sta parlando.